Storia, arte, cultura, gastronomia, tutti gli appuntamenti di Weekend da Scoprire. Dal 22 al 24 di marzo, presso le Fiere di Sora, appuntamento con la quarta edizione di Agralia, Fiera Nazionale di Agricoltura, Alimentazione ed Ambiente e con il quarto salone di prodotti tipici e tradizionali. Ad Alatri, sabato 23 di marzo, dalle 18, presso la Biblioteca Comunale, appuntamento con la sesta edizione di Stasera parliamo di musica, a modo mio, incontri con il compositore Antonio D'Antonio. A Cassino, sabato, alle 21.30, presso l'Aula Pacis, appuntamento con Ride Bene, Chi ride, spettacolo di cabaret con Maria Rossi, Dottor Etica e Maria Nardone. Durante la serata saranno effettuate le riprese televisive per la realizzazione di una fiction tv. A Montesambiaggio, sabato e domenica, appuntamento con Misati Buono, il ritorno della Sagra della Salsiccia di Montesambiaggio, con degustazioni, spettacoli e mercatini. Ad Anani, Arpino, Campoli Appennino, Castro De Volci e Collepardo, sabato e domenica, nuovo appuntamento con Sboccia alla Primavera, alla scoperta delle Dieci Meraviglie della Ciocioria, visite guidate con aperture e riaperture straordinarie di torri, palazzi, musei, aree faunistiche ed antiche botteghe, eccellenze del nostro territorio. Domenica 24 di marzo, alle 20, nella Chiesa di Sant'Antonio, si terrà il terzo concerto di pianoforte in memoria del maestro Pio Di Meo, l'ingresso è libero. Per inviare le vostre segnalazioni, chiamate al numero 0776 72 8035 oppure scriveteci a weekendchiocciolateleuniverso.it